Ma Alec, sei in creative? Eh sì ragazzi, perché guardate che cazzo si è creato. Un Chunk Error. So se qualcuno conosce questo tipo di errori, ma è il cancro di Minecraft. Stavo registrando l'episodio di oggi, dopo un'ora e 55 minuti di registrazione ragazzi, in cui avevo costruito il faro, in cui avevo costruito il dannatissimo faro, che cosa succede? Va via la corrente, si spegne il computer, perdo tutta la registrazione come già mi è successo un'altra volta, ma in più quando apro lo Sian ritrovo questo bug. Ho parlato con Ferre, chi conosco, che gioca a Minecraft e porta a Minecraft, l'ho letto anche su internet, sembrerebbe un tumore irrisolvibile, questa tipologia di bug. L'unico modo che c'è è farlo con WorldEdit, ricostituire il Chunk, però verrebbe casuale, non si andrebbero a ricollegare le grotte. Quindi non so bene come posso fare. O bisogna chiudere la serie, oppure isolare il Chunk con una Fencer, che non bisogna assolutamente finirci sopra, tenersi il faro con questa ombreggiatura e andare avanti con la serie cercando di prenderla sul ridere. E sperando che questo Chunk non vada a contagiare nessun altro Chunk, perché ho letto pure che la presenza di questo potrebbe andare a danneggiare altri Chunk nel mondo, quindi è veramente un cazzo di cancro. Se avete soluzioni, scrivetele nei commenti, ragazzi. Comunque io adesso volevo farvi vedere questo, prenderò questo frammento di video, perché adesso voglio andare a cercare una soluzione online, perché ho letto alcune soluzioni e voglio andarla applicare, però se tante volte risolveranno il bug, ci tenevo a farvelo vedere perché, anche per dirvi, nel senso se adesso per esempio riesco a risolverlo e c'è questo faro, il perché ho costruito questo faro e voi non avete visto nulla. Quindi spero di risolvere questo bug, ragazzi, mi metto al lavoro. Ed eccoci qui ragazzuoli, mamma mia ragazzi che salvata. Allora, è il giorno dopo la scorsa registrazione, ho passato la giornata di ieri a cercare soluzioni online per i cui il bug non sembravano esserci, perché erano corrotti i file region, anche se c'avevo un vecchio vecchio backup e provavo a sostituirli, il bug rimaneva. Molti dicevano, Ferre mi aveva detto che era irrisolvibile, che avrei dovuto buttare il mondo, ottenermi il bug nel mondo. E invece ragazzi ho trovato un programmino, un programmino, che se volete un giorno vi carico, che è un exe. Lo fai girare, gli dai la cartella del tuo mondo, lui trova i chunk buggati, danneggiati, ne ha trovato uno infatti, lì elimina e li rimpiazza con gli originali, quindi poi ho dovuto, ovviamente l'ho fatto in creative perché è un bug, e non mi andava di rifarlo manualmente, il buco poi era tutta acqua, al posto di quel buco nero c'era solo l'acqua, era il grado come c'era all'inizio, e lì c'era acqua, ho rimesso la terra, ho rifatto la mezza collina che era stata praticamente cancellata. Fortunatamente il bug arrivava a pelo della torre, non aveva cancellato un cazzo della torre, se non tipo i... arrivava tipo... qua. Questo blocco, aveva eliminato questo blocco, questi tre così, questa parte qua, questo rettangolo qua l'ho rimesso, e qua infatti l'erba ancora deve crescere. E... però fortunatamente siamo riusciti a non perdere il mondo e... e meno male. Abbiamo risolto questo bug brutto che succede purtroppo quando va via la luce così all'improvviso può... se sta caricando un chunk in quel momento in cui va via la corrente, quel chunk si bugga e fa quel brutto chunk error che è quello più brutto, quello nero. E quindi niente ragazzi, l'unica cosa è che il faro è costruito e voi non avete visto la costruzione. Quindi in questo episodio, in questo episodio che non verrà sicuramente lungo come gli altri, perché già ci ho perso una marea di tempo tra i due ore di registrazioni buttate e la mezza giornata per cercare di fixare questo bug, andremo a vedere il faro, come vedete è questo qua. Allora, come l'ho costruito? Aspettate un attimo. Eccoci qua, siamo un po' più alti. Allora, la base molto semplicemente è una forma geometrica che ha un lato orizzontale di 5 e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 punte, 5, 6 punte, 5, 6 punte, 5, 6 punte. Poi, vedete, ho fatto 3 strati, mano a mano sempre uno in dentro. Quindi ho fatto il primo, il secondo e il terzo. Sul terzo ci ho costruito la prima parte della torre. Sono 4 blocchi di legno, lunghi sempre 5, con la finestrella così. Ho usato le lastre. E qui invece, ai lati qua, i due colonnati qui invece sono fatti di pietra. Poi sono due strati di slab, che si fanno con la pietra gotta. Ma poi c'è un altro strato sempre come questi, uno in dentro. E poi, di nuovo uno in fuori, uno strato uguale a quello sotto, ma con due di cobblestone lavorata all'inizio. E poi sempre stesso discorso con la legna, due strati di slab. Poi uno strato dentro come avevamo fatto qua, ma stavolta non riusciamo all'infuori come qui. Ma continuiamo con uno strato lungo 5, alto 5, con una finestra da 3. Poi dopo c'è uno strato di legno con i singoli colonnati sempre solo in cobblestone lavorata. E poi c'è questa struttura di legno fatta così a U, con qui una rientranza così, col colonnato qui alternato. E poi il tetto costruito con le scale, da tre strati a rientrare, una casetta con i colonnati di legno e le finestrelle. E poi un altro tetto a chiudere con questa croce fatta da me, insomma un po' così. E viene su un bel faro, un faro originale ragazzi, che è un po' diverso dal solito e riprende un po' lo stile della casa perché usa legno e cobblestone, anche se in realtà ho usato legno e cobblestone lavorata. Qui invece la cobblestone cruda. Però lo riprende molto, lo stile della casa e ci sta, secondo me ci sta. Quello che andiamo a fare oggi, dopo questa rapida descrizione, intanto butto giù questa colonna. Ok, a parte il fatto che mi sono rimaste solo quattro metri di cibo, vabbè. Andremo a fare il sistema di illuminazione. Che lo faremo con la redstone. Allora ci servono dei repeater, tanti repeater. Però, allora, innanzitutto ho bisogno di cibo. Perché mi è rimasta una mela, quindi andiamo a fare qua il cibo. Ah, e poi volevo farvi vedere, dato che l'avevo fatto vedere nell'episodio che ho perso, l'accesso al Nether, ragazzi. L'avevo fatto, l'ho dovuto ricostruire questo, perché si era tipo buggato, anche lui. Però l'ho rifatto e come vedete è un accesso un po' tutto fiammeggiante, un po' rotto, che riprende un po' quello che è un po' le dinamiche del Nether, capito? Ci sta come ingresso, secondo me. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo ingresso, cosa ne pensate del faro, se approvate. E un sostegno con un like per il bug che abbiamo avuto, che mi ha fatto veramente perdere tanto tempo. E allora, qua possiamo innanzitutto ritirare l'acqua e andiamo a prendere un po' i drop. Abbiamo anche rivivantato, così almeno siamo tutti contenti. Abbiamo 10 panini e va bene così. Questi, ragazzi, sacchi di inchiostro adesso le butto, perché non le ho prese in maniera corretta, perché in pratica si era creato nel bug, che avete visto, una sorta di accumulo di squid. Ma assurdo, ragazzi, erano tantissimi. Metto degli screen a schermo adesso, perché li avevo mandati sul gruppo di WhatsApp che ho con alcuni amici. Erano tante, le avevo uccise e mi erano rimasti in mano, quindi non mi sembra di averle presi giustamente, li ho buttati. Allora, abbiamo del quarzo, abbiamo della redstone, abbiamo del ferro, andiamo a craftarci quello che ci serve. Allora, il problema è che per il sistema di illuminazione ci serviranno i repeater e quindi pietra cotta. Ho finito il carbone, tutto quello corretto o no sono quei sette, però ci abbasteranno, ovviamente. Allora, poi, il ferro in teoria non ci serve e possiamo posarlo. Il resto io la poserei anche il quarzo, perché... Ora però, mentre si cuoce il tutto, dovremmo andare nel nether a prendere dell'alluminite, perché per il sistema di illuminazione che ho in mente ci servono delle lampade redstone. E l'alluminite l'abbiamo finita, quindi c'ha bisogno di illuminite. Ora, dobbiamo assolutamente rischiarcelo il meno possibile, perché abbiamo di tutto e di più. E io avevo sentito un... Eccolo lì il ghast. Oh merda, no, aspetta, aspetta, aspetta. Questa è casa mia, figlio di puttana. Vieni qua, dai. Fatti sotto. Fatti sotto. No, i drop. No, rip drop. Vabbè, era carne a marcia. Cazzo è notte, sto facendo il coglione di notte. Devo assolutamente prendere l'arco e le frecce, ragazzi, perché quel coso è pericoloso. Ho un arco mezzo rotto e delle frecce, però già è qualcosa. Allora, possiamo la roba che non serve, perché tanto la perdiamo e basta, quindi... Ok, let's go, mangiamo una mela. Siamo full e andiamo. Allora, quello è il ghast. Dobbiamo farlo fuori, perché quel ghast ci rompe... What? Perché mi hai visto? Perché mi devi rompere il cazzo? Morto. Con due frecce, more. Figlio di puttana che altro non sei, no? Ma la vuoi far finita? Oh, io ho rispinto la palla. Muori. Mamma mia, voglio l'hashtag nei commenti. Lo sterminatore di ghast. Lo sterminatore di ghast. Allora. Quindi. Due ghast fuori dalle palle. Questa è casa mia. Via. Adesso. Dove cazzo era... Ancora. Un altro ghast, lì. Ma che è di questi ghast? Io ho bisogno di luminite. Quante frecce ho, ne ho sei. Devo prenderci con la mira. Eccolo. Ma vaffanculo. Muori, coglione. I'm too much strong for you. I'm too much strong for you. Sto arco lo rinomino... Lo sterminatore di ghast. Voglio rinominarlo e metterlo come cimelio. Gli facciamo un cimelio, ragazzi. Allora. Infatti non lo voglio più usare. Dove... Alla unita è quel blocco lì, è quello più vicino. Io non intendo andare... Quella però è facile da prendere. Questa però è una cifra. Il problema di questa luminite è che fondamentalmente sotto ha la lava. Lava non si può neanche togliere con l'acqua nel nether. Molto bene. Quindi bisognerà tapparla. Oh mio Dio. Ma quanti so per un po' di coglio... No, non si fa questo. Sa cazzo fai, eh? Figlio di puttana. Ma guardate se me lasciano prendere la mia luminite in pace, oh. Che palle. Eccola. Bam! Ritorno al mittente. Impresa compiuta. Let's go, bitch! Ok, la rompiamo da qua. Vediamo... Ok, perfetto. Da qua è molto meglio. Rompiamo e poi andiamo a raccogliere giù quello che riusciamo a raccogliere, semplicemente. Ok, ho rotto tutto. Adesso scendiamo, molto semplicemente. Madonna, quante stack ho fatto? Due stack più tredici. Probabilmente qualcosa si è perso pure là in alto. Poco a poco c'è un gust qua e mi aggra e colpisce questi pigmen. So cazzi, eh? Anche perché sento continuamente un altro gust, ma stavolta non riesco a capire dove cazzo sta. Ah, questa è facilmente prendibile, cazzo. Alla grande. Ok ragazzi, abbiamo tre stack e mezza, quindi penso che vada bene e se non va ce la faccio mandare bene. Perfetto, torniamo al portale. È pure notte per la gioia di tutti. Ok, abbiamo dormito. Adesso andiamo a caftarci quello che ci serve. Qua la pietra cotta ne abbiamo presa. Allora... Eh, la redstone potrebbe essere un problema. Non pensavo che poteva esserlo, ma... Mi sa proprio di sì. Allora, faremo... Mh... Due, quattro, sei, otto lampade. Sì, otto lampade, quindi in teoria... Andiamo a provare a fare il circuito, vediamo poi se va ampliato. Abbiamo ancora un po' di redstone, quindi lo possiamo ampliare e poi volendo possiamo anche ampliarlo dopo. Ma vi faccio vedere anche l'interno del faro, ragazzi. All'interno del faro è questo qua. Si entra e molto semplicemente l'interno è questo. E ci sono due, davanti a noi, davanti all'ingresso, due scalappioli, perché la schialla a chioccio avrebbe rovinato un po'... Non si sarebbe visto l'interno che è comunque bello, quindi ho preferito fare un ingresso diretto così che è anche più... Cioè, è fatto meglio, secondo me. Allora, il faro... Allora, vediamo se funziona, perché in teoria era bello metterne 3, 3, 3 e 3. Dovremmo fare una sorta di... Non so nemmeno come chiamarlo. Allora, c'è bisogno... Non so perché ho preso tutte queste... Ah, no, questa è per farti ripeti. Ripeti in realtà ne servono... Penso ne servano quattro, perché basta fare quello... Ok, così si dovrebbe accendere, ok. Ah, però ne accende due. Ok, quindi in teoria l'ideale sarebbe prolungarlo... Ah, a parte, vedi, non c'è bisogno nemmeno che sale in realtà. Basta anche così. Ah, il problema è che non si illuminano tutte e due, se faccio così non si illumina niente. Quindi sì, bisogna per forza mettere il blocco. Quindi in teoria una volta fatto questo, con due che vanno lì così per illuminare il terzo, in teoria questa può essere rotta, perché tutto questo si è illuminato con la torcia. Se viene tolta però rimane illuminato e poi tocca levare e rimettere molto veloce il coso, ma... Forse è troppo veloce così. Ecco così. E diventa un gioco di intermittenza in pratica. Il problema è qual è? Il problema, vedete, è che le due si spengono e si accendono allo stesso momento. Siccome questa deriva da un altro impulso, non si accende nello stesso momento. Quindi l'ideale è... Sì tutto rompere il tutto, farlo spengere. Questa toglierla, così riguadagniamo tre pezzi, e qui sopra in pratica farlo camminare. Molto semplicemente. Che è un risparmio anche di redstone in realtà. Ok. Quindi in teoria adesso se noi mettiamo la torcia redstone e diamo fuoco alle polveri. Ok. Poi la togliamo, è illuminato, e rifacciamo il giochetto di prima. Ok. Come vedete sono tre che si illuminano e si spengono. Tre che si illuminano e si spengono. Perfetto. Quindi il giochetto... Perché io pensavo in realtà che questa intermittenza... Ma intanto arrestiamo il tutto. Si doveva dare... Se più largo era, più bisognava fare largo questo cerchio. In realtà non c'è bisogno. C'è bisogno solo di un cerchio iniziale da quattro repeater. E poi da qui si vanno a... Diciamo... Divincolare tutte le varie... Il problema adesso è la redstone, che non abbiamo. E il mio dubbio era però... Da questi qua possiamo... No. Non c'è verso di riottenere quello che abbiamo... Sprecato. Perché abbiamo sprecato. E neanche da queste, vero? No, niente, proprio zero. Siamo dei coglioni. Siamo dei coglioni. Ci serve della redstone. Perché in realtà... Ci servono altre sei di quelle torce lì. Sei di quelle lampade lì. Abbiamo due, quindi... Quattro. Quindi venti di redstone per quello. Bisognerà cercare della redstone per finire questa cosa. Quindi vado a cercarla e taglio il pezzo finché non la trovo, ragazzi. Perché questo episodio non può avvenire estremamente lungo. Non è un episodio di mining. Vado in miniera solo ed esclusivamente per cercare della redstone. Ok, ho fatto carbone che stava là. Ho fatto delle torce. Perché ovviamente mi serviranno. Come il pane. Qui ho scoperto una grotta. E posso andare dai qua. Ovviamente è pieno di mob. Ma non me ne frega niente perché io li ammazzo tutti. Dai, strunzo, vieni qua. Ah, ma sto finendo la spada. Oh, oh. Devi morì. Devi morì. Adesso morì, strunzo. Qua c'è dell'oro, quindi stiamo a una bella profondità. Quindi la redstone dovrebbe trovarsi abbastanza easy. Sto finendo la spada, zombie. Non ho tanto tempo da perdere con te, eh. Ecco, quella è una strega. Quella potrebbe essere un problema. Bisogna do già. Bisogna do già. Bisogna do già un dagli respiro. Madonna, Alec. Ma quanto so pro, raga. Sto giro so proprio uno sterminatore. Comunque non dovevo... Ma dai, io spesso finché trovo la redstone. Poi alla fine non sto tagliando cazzo. I misti minerali li ignorerò per ora. Oh, finalmente. Su. Ci voleva tanto? Dai. Oh, è pure tanta. Molto bene. Vedi che culo. Subito l'ho trovata. Ah, è grande. Alla grande. Vabbè, a parte ragazzi, la redstone c'è. Se non la trovo mi devo preoccupare. È il cancro tipo di Minecraft. Si trova everywhere. Ok, adesso ci dovrebbe bastare tranquillamente. E quindi, ignorando tutto il resto, Torniamo a casa. Quindi, uno, due, tre. Ok, siamo a sei. Questa redstone ce la teniamo perché ci serve. Questa luminite la possiamo tenerla perché ci può sempre servire. Abbiamo finito anche il chip. Abbiamo trenta livelli. Buono. Allora, ovviamente qui dentro quella struttura fa schifo e rovina un po' quello che... Non è che si può salire. Però, d'altronde, non è inevitabile. Quindi, mettiamo le ultime cose. Poi, allora. Da qua. Quindi va qui. Ah, dobbiamo prendere ovviamente dei pezzi di legno. Perché dei blocchi così fanno veramente cagare. Però, vabbè. Adesso poi li prenderemo. Nel frattempo mettiamo questo che va più che bene. E poi mettiamo questa. Facciamo illuminare il tutto. La leviamo. Prendiamo il nostro pezzone di redstone. Leviamo qua. Facciamo spengere. E poi così. Quindi, in pratica, come vedete, a turni si spengono e si accendono. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. E fa tipo una sorta di circo. Si potrebbe mettere una luce pure qua e qua. E qua e qua. E qua e qua. E qua. Quindi sono altre otto. Quattro. 8, 16, 24, 32. In realtà ne potrei fare altre quattro precise. Però poi non ho la redstone per collegarle. Che dovrebbe poi passare tipo per di qua. E andare sopra e sotto. Mi servirebbe un altro po' di redstone. Questo magari lo faremo in un altro episodio. Per il momento lascio così. Poi magari off camera finisco di fare questa illuminazione. Dovrebbe essere molto bella a vedersi. Credo. Infatti adesso vorrei provare un attimino a vedere durante la notte l'effetto. Anzi, mentre aspettiamo abbiamo, se non sbaglio, avevo delle ossa. Giusto? Perfetto. E ne ho anche un'altra rimediata. Quindi possiamo andare a farci della ricca farina d'ossa. Ben 15 unità. Niente male. E possiamo andare a abbellire un po' di più tutte queste meandre. Tipo qui. Boom. La collina che ne ha bisogno perché è stata rigenerata da poco. Ok. Ok. Così. Così. E così. 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 Oh. Vedi com'è tutto bello naturale. Eh. Com'è bello adesso. Così è un cazzo di posto. Poi magari. Eh. Un po' prima della sabbia. Magari. Un po' di erba la leviamo eh. Che magari prima della sabbia. Non è che l'erba va poco fino alla sabbia. Dai. Le leviamo un po'. Ho preso un po' di sabbia. Perché a sto punto andiamo a completare anche qua la spiaggia. Però qua. Cioè andiamo a farla fino a qui. Perché. Di qua non ci espandiamo perché c'è il faro eccetera. Però poi dagli altri tre lati dall'isola si ci espanderemo. Quindi la spiaggia devo aspettare a farla. Questa box dovrò levarla da qua. Era di comodità. Adesso poi la sposterò. Lo farò off camera. Eh. Qua magari leviamo un po' di erba. Che sennò è troppo fitta. Che ragazzi. Nel frattempo si è fatta notte. E eh. Sì. Diciamo che. In teoria. Si vede. La sorta di cosa di faro. Il problema è che è tutto molto illuminato. Anche di notte. Guarda gli zombie quanti ne sono già spawnati. È tutto molto illuminato quest'area. Quindi ci si fa poco caso. Però dalla lontananza con la barca dovremmo notarla. Oddio. Ho già due creeper. I maiali. Con tutta l'erba sono spawnati i maiali. Gigi Ale. Perché questa comincia ad essere una discreta pianura. Con tutta l'erbetta. Una volta che voi fate una pianura e spawnate le... Un enderman. Oh mio dio fammi andare a dormire ragazzi. Sta un po' nel mondo sull'isola. Aiuto. No no no. Non t'azzardà eh. Non t'azzardà. Oh bravo. Cosa so. Sti scheletri che si mettono sotto e non prendono... C'è l'enderman che mi si trasporta in continuazione. E il creeper che mi fa paura. Ecco vai a fuoco va. E muori. Allà c'è il creeper che è nell'acqua che è un bene. Perché almeno... No. Non esplodere qua. Anche se nell'acqua non dovresti fare danno è meglio che muori eh. L'enderman non possiamo affrontarlo. Non ho vita. Anzitutto craftiamo altra farina d'ossa. Io direi di fare un po' d'erba anche qua e qua. Perché alla fine ci sta. Non troppa magari. Poi la sfoltisco io off camera e la bilancio un po'. Però nel senso voglio metterla un po' ovunque a sto punto. Ah no è vero i maiali vengono attirati da che? Dalle carote. Da che vengono attirati i maiali? Oh mio Dio. Eh merda. I maiali no ragazzi. I maiali vengono attirati dalle carote me sa. Quindi al laghi me e niente. Dovremmo aspettare. Dovremmo aspettare i maiali. Qui sta a fare una sorta di recinzione. Vabbè. Fatta così. Metteci dentro momentaneamente i maiali. Vabbè. Intanto li lasciamo là. E quindi niente ragazzi. Spero che il faro vi piaccia. Ditemi nei commenti come migliorarlo. L'illuminazione secondo me va bene così o va fatta in un altro modo. Qui abbiamo un po' messo l'erbetta davunque. Un po' sfoltita. Questo è il nostro porticciolo. La nostra collina. La nostra bella casa. Lì. Questo è il nostro accesso al Nether. Tutto molto bello. Tutto molto interessante. Volevo chiedervi. Nei commenti scrivete tutti i suggerimenti per i obiettivi della prossima stagione. Perché finiti questi dieci obiettivi finirà la prima stagione. Inizierà la seconda se volete. Scrivetelo nei commenti se la volete. E gli obiettivi li sceglierete voi. Quindi cominciate a scriverli così almeno intanto comincio a sceglierli. Detto questo ricordo di lasciare un like. Raggiungiamo i 300 like. L'aereo che non era passato durante tutto l'episodio. E che ovviamente a fine episodio comunque si fa sentire perché porco. E quindi niente ragazzi. Da Alec è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Lo siano iscrivetevi al canale se avete fatto. Un saluto. Ciao. 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 Grazie a tutti.